Zanzibar è una parte della Repubblica Unita della Tanzania, stato dell'Africa orientale e arcipelago situato nell'oceano indiano a pochi gradi a sud dell'equatore. E' costituito da due principali isole, Unguia o semplicemente isola di Zanzibar a sud e Pemba a nord e da oltre 40 isole minori, tutte considerevolmente più piccole, alcune delle quali disabitate. La distanza minima tra l'arcipelago e la costa continentale è di circa 40 chilometri. Nata dall'incontro delle popolazioni Bantu dell'Africa centro-orientale con le civiltà del Medio Oriente e dell'Asia e in particolare di Oman, della Persia e dell'India. La popolazione parla prevalentemente la lingua sweili, ma anche l'inglese è molto diffuso. Gran parte del patrimonio architettonico, artistico e culturale di Zanzibar è concentrato nella città principale di Stonetown, dove si trovano gli antichi palazzi dei sultani, tra cui Beit el-Sahel e il Palazzo delle Meraviglie. Le fortificazioni del periodo Omanita, numerose moschee e altri luoghi di culto e numerosi altri importanti esempi di Swahili. La cucina più famosa è lo Zanzibari. È rinomata per le sue insolite combinazioni di sapori, che riflettono il passato movimento dell'isola e dell'arcipelago, affiancando e combinando ricette arabe, indiane ed europee, spesso modificate per adattarsi ai prodotti alimentari tipici del luogo, legati alla tradizione costiera, pesce e frutti di mare, e alla produzione agricola da esportazione, spezie, frutta tropicale. Grazie a tutti! A Zanzibar, in tutto il territorio, si troveranno un gran numero di angolini nascosti da scoprire e molte opportunità di divertimento.